Cuccaroveter celebra la regina pastorella. Questa sera e domani sera si terrà la tredicesima edizione della sagra della pastorella cuccarese, dolce a forma di stella e a base di castagne, tipico della tradizione natalizia. L'evento avrà luogo in piazza Umberto I a Cuccaroveter dove saranno dislocati gli stand enogastronomici aperti al pubblico dalle ore 18. Le pastorelle saranno le protagoniste indiscusse ma sarà possibile assaggiare anche altre gustose prelibatezze. La manifestazione sarà animata dalla musica degli Stereotto mercoledì 31, quindi questa sera, ed è Chiepò giovedì 1 novembre domani. Secondo la tradizione le pastorelle venivano preparate dalle figlie dei pastori in occasione del loro fidanzamento e da ciò deriva il loro nome. Il borgo di Cuccaroveter, noto per il tradizionale palio del ciuccio che si svolge ormai da anni nel mese di agosto, si prepara ad ospitare un altro evento volto alla valorizzazione della cucina e delle tradizioni cilentane.